queste cose. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. È l'accettazione e proprio quando effettivamente dici alla tua ansia o a tutte le tue problematiche, ok, ben arrivata, ok, sei qua, ti conosco, d'accordo, sei parte di me, riesci a gestirla in maniera differente. È solo una piccola parte di quello che sei e anche una cosa importante che ho imparato è non definirsi in una determinata maniera, tipo io sono la persona ansiosa, no, io sono la persona ansiosa ma sono anche la persona che sa fare casino, la persona che si deprime, la persona che invece sostiene gli altri, siamo tante cose tutti insieme, quindi anche non definirsi in un personaggio, non definirsi in qualcosa di specifico. Letter, esatto, esatto, esatto. Ah, ma allora tu Edward comunque ne sai, ne sai, ne hai di soft skills. Acceptance and commitment therapy. Esatto, esattamente, esattamente, bravo, bravo, Edward, Edward ne sa, Edward ne sa. Ma infatti si vede che sei una persona che ne sa perché sei stata super, super, super empatico e gentile nei miei confronti e mi hai messo a mio agio. E questa è una cosa che è bella nelle persone che magari hanno avuto ansia o preoccupazioni o altre cose perché sanno mettere... perché cinque spettatori. Ecco un altro. Banna! Ah, da qua, da qua, da qua. Deficiente. Banna! Sei sicuro? Sì, ciao! A cinque spets? Sì, lo so, raga, sono pochi, cinque spettatori. Ancora, ancora, è tornato. È tornato, blocca subito, panna, utente, sì. Cinque spettatori sono pochi, lo so, però, cioè, sono tanti per me, da zero. B-Twin si sono fatte le 18. Oh, grandissimo, grandissimo. Allora adesso mi preparo, grazie, mi preparo, scusate che vi metto qua in bagno con me. Mi metto qua. Mi do giusto una... Da cavolo è la luce? Non sono a casa mia, quindi non sono molto a mio agio nel muovermi, non so dove sono le cose, non so dove sono le luci. Ciao, hai imparato a bannare? Sì, ho imparato a bannare. Obiettivo raggiunto, nonostante tutto. Sì, è vero, obiettivo raggiunto e ho anche imparato a bannare. Tra l'altro prima avevo fatto anche una live dove ho messo lingua inglese, per sbaglio, sempre perché sono inesperta alle prime armi, e praticamente ho fatto pure una live tipo semi in inglese. Mi hanno donato 5 dollari, ma non ho capito. Cioè, io l'ho visto dopo nei messaggi privati. Tizio ha donato 5 USD, ma non so se è vero. Obiettivo raggiunto, obiettivo raggiunto, obiettivo raggiunto. Oh, 9 spazzo, 9 spazzo. Sbanna con letto, ma non ci penso nemmeno. Allora, non so se uscire proprio così in questa maniera, ma non me ne frega proprio niente, quindi mi sa che uscirò proprio così. Va bene, allora, intanto grazie, 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 grazie a tutti per avermi fatto compagnia. È stato bello passare nel tempo con voi, mi è piaciuto tanto. Così sembri una colp. Ok, un altro da bannare. Pazzerò tutta la mia vita a bannare persone, praticamente. Però no, è stato stradivertente e grazie veramente a tutti quelli che sono stati stracalini, gentili. E se volete, se volete mettermi un follow, se volete, bene, vi prometto che tornerò più avanti e in maniera più, più meglio, più meglio. Dato che sono poco intelligente, abbiamo scoperto questa live, più meglio, diciamo. Passerò spesso. Grazie, grazie mille, Leo. Sei veramente carino, grazie mille. Ciao ragazzi, vado a ritirare il mio cibo da povera. Ciao. Ciao ragazzi.